Ben ritrovati ai nostri telespettatori di Canale 3, questo è il nostro format Eora Amministrative 2018 dedicato ai confronti fra i candidati sindaci, con quello di oggi iniziamo l'ultimo giro di confronti fra i candidati prima della speciale Siena Risponde del 6 giugno dove li ritroveremo tutti insieme per un confronto in diretta. Per questo primo, ultimo giro, chiamiamolo così, abbiamo con noi 4 dei candidati sindaci, Luigi De Mossi, lista civica più centrodestra, Alessandro Pinciani, lista civica, David Chiti, lista civica e Pierluigi Piccini, lista civica. Io inizierei subito pensando al domani quando uno di loro probabilmente sarà sindaco e quindi vorrei chiedere, partiamo da Luigi, a tutti la stessa cosa, se il 10 o il 24 se sarà ballottaggio la città vi chiederà di fare il primo cittadino, da dove comincerete? Quale sarà la cosa del vostro programma più importante che farete per primo? Luigi? La prima cosa da fare è innanzitutto l'efficientamento della macchina amministrativa, quindi i servizi essenziali, per cui rifiuti, nettezza urbana, decoro urbano, ovviamente viabilità sia esterna alle mura che interna alle mura perché c'è da rivalutarla completamente e da ripensarla e poi ovviamente censimento delle partecipate e loro efficientamento completo. Questo per quanto riguarda ovviamente i primi tempi, poi ci saranno anche altri. Ecco ma sulla mobilità? Sulla mobilità io lo sai è un argomento che a me interessa molto, sulla mobilità ovviamente che non dipende soltanto dal comune però il mio interesse è quello di riuscire a rendere più agevole gli spostamenti interni nell'ambito sia della città che anche all'esterno, per cui i contatti ovviamente non sono solo di competenza comunale, saranno anche con le ferrovie perché è necessario assolutamente trasportare una parte della mobilità su gomma sul rotaia, quindi non sto pensando all'alta velocità a Siena, sia chiaro, sto pensando però all'utilizzo degli strumenti che ci sono e che ora che ci sono e che dobbiamo massimizzare per consentire un'arrivo a Siena anche più agile, più veloce, point to point, Siena-Firenze senza fermate intermedie in orari interessanti per tutti quanti, quindi un'implementazione di questa tipologia di servizio. Per quanto riguarda poi ovviamente il mantenimento dei posti di lavoro anche se non è soltanto di competenza comunale, anche questo sarà una difesa fondamentale che dobbiamo cercare di fare, ovviamente non dipende solo dal comune ma un sindaco autorevole ha la capacità di riuscire a interloquire con i soggetti, con i player sia nazionali che internazionali, sia per aumentare i posti di lavoro che sono su piazza, sia anche per mantenere quelli che ci sono. Non è facile ma noi, i nostri primi giorni saranno questi, i nostri primi cento giorni saranno orientati verso questa tipologia di interventi. Alessandro, che poi se state più corti come stai facendo te è anche meglio, quindi abbiamo più tempo per dire più cose. Io ho il dono della sintesi. Sei il Palazzo Comunale, sei diventato sindaco. Sì, sì, la prima cosa che farò è sicuramente aprire, come ho già detto, ma lo ripeto, le porte e le finestre del Palazzo Comunale le terrò aperte per un po' di tempo, questo un po' per cambiare area. Nel frattempo cercheremo di mettere ordine a tutta quella lì che è la macchina comunale, cercheremo di capire quello che è lo stato dell'arte e la prima cosa che farò è sicuramente parlare con i dipendenti del Comune di Siena per capire che cosa pensano loro dell'amministrazione, che cosa pensano loro rispetto ai temi della città. Poi parlerò con i cittadini ancora, questa campagna elettorale a volte per certi aspetti è lunga ma per certi aspetti invece purtroppo è stata corta, poi in realtà la mia decisione di candidarmi è abbastanza recente, quindi avremo bisogno ancora di un supplemento di tempo per approfondire certe tematiche con i cittadini. Parlerò con gli esercenti e parlerò con le associazioni di categoria fino a parlare poi con gli operatori del settore e poi con i comuni con termini e da lì che si inizia secondo me a capire bene quello lì che è il futuro di questa città, parlerò con quello che rimane della provincia di Siena perché l'unico modo per andare poi a parlare con la regione, parlare con RFI, parlare con i grandi interlocutori che stanno fuori dalle mura cittadine e cercare di avere un territorio ancora più forte e questo si è perso. Con la definizione delle province allo stato laicale così come è successo il comune di Siena, il comune di Napoluogo si è indebolito, i comuni con termini si sono indeboliti e questo territorio tutto si è indebolito. Per cui è importante prima di tutto per quanto riguarda i temi della mobilità guardare, prima ancora di guardare ad un collegamento veloce con Firenze sul quale sono evidentemente d'accordo, cercare di capire bene quelle che sono le problematiche della mobilità in arrivo a Siena. Ci sono strade provinciali che si chiudono, ci sono ponti che franano e quindi i cittadini che si allontanano dal nostro comune. Questo non è un fatto relativo, questo è un fatto importante che si riverbera evidentemente sui servizi. Parlerò con la regione toscana per fargli capire che la campagna acquisti è finita, che questa città non ha più niente da dare alla regione toscana in termini di scambio. La città va difesa, vanno difese le prerogative di questa città, vanno difese le potenzialità di questa città. È un cambio di mentalità quello che io chiedo alla città e per far questo bisogna ricostruire una classe dirigente per fare in modo di sottoporre questo intento e farlo comprendere i cittadini e cercare di essere più forti anche rispetto a quelli che sono gli interlocutori che stanno fuori dalla città. Questo è quello che farò nei primi 100 giorni. Davide, sei in comune, anche te l'ha seduto su quel poltroncio. Io credo che bisogna ripensare la città dal punto di vista di chi la vive, per questo io ho promosso, facendo anche un convegno nei giorni scorsi, una legge nazionale sui centri storici. È un assessore che si dedica al centro storico, alle periferie, al decolo urbano e alla sicurezza. Credo che bisogna ripartire da qui. Far rivivere il nostro centro storico, che è un centro, un sito unesco, quindi una legge nazionale in qualche modo normi, gli accessi, la viabilità, la mobilità, il modo anche di fare imprese nel centro storico. È importante questo. Io più volte ho parlato di ripopolamento del centro storico, anche a livello di esercizi commerciali tipici del centro storico. Immagino per esempio tutti i garage che adesso sono dislocati anche nelle zone centrali, fare in modo che con una legge nazionale si possa fare anche dei canoni concordati con chi vuole affittare i negozi e dare in modo anche ai giovani imprenditori di fare imprese. Tipicizzare di più il centro storico, scoraggiare per quanto possibile le botteche internazionali sarebbe già un primo segnale. Poi c'è tutto il tema della mobilità. Niente McDonald's? Direi no. Il Comune di Siena può fare tanto. Cambieremo la normativa e soprattutto promuoveremo anche a livello nazionale una legge nazionale che tuteli il nostro sito UNESCO. Mobilità. Sono d'accordissimo quanto diceva Luigi sulla mobilità, diciamo, in entrata e in uscita da Siena. Quindi con Siena è uno snodo importante, sta diventando. Bisogna fare anche, rivedere anche la mobilità interna. È molto importante. Noi abbiamo promosso per esempio delle navette che vanno da Porta Romana a Porta Camollia, da Porta San Marco a Porta Pispini, cioè delle navette facendo tutti i passaggi, dando modo appunto agli anziani, alle persone che si vogliono muovere il centro storico e doverlo fare liberamente. Dovrede che bisogna parcheggiare anche il centro storico, per cui i poveretti che ci abitano, dargli la possibilità di parcheggiare anche qualora non trovino dei posti, anche in altre zone della città. Non chiuderla la città in questo momento. Noi su questo abbiamo promosso per esempio che da l'1 alle 3 si possa parcheggiare gratuitamente per dare la possibilità anche a negozi, da avere la clientela e poter in qualche modo sostenere anche i grandi costi che ci sono. Ci sono tanti esempi di come ripopolare il centro storico. L'hanno fatto dei comuni che sono comuni anche non nella nostra provincia. Detassiamo le botteghe, abbassiamo le tasse delle botteghe, facciamo questo tentativo per ripopolare il nostro centro storico. Le botteghe storico non ci caratterizzano dal punto di vista artistico e culturale, ma sono anche una professionalità. Quindi riportare questi mestieri. Chiaramente ciò non basta. Abbiamo bellissimi esempi come per esempio il Santa Chiara Lab, quindi impresa, università, direi anche in più formazione scuola e lavoro. Dobbiamo farlo anche a livello dei licei, a livello degli istituti. Dare la possibilità ai giovani di affacciarci fin da subito dal punto di vista del lavoro. Ci ho pochi minuti, quindi chiudo qui dicendo che si può fare tante cose, ci vuole la volontà di farle. Si parlava prima del lavoro e il Comune può promuovere il lavoro, deve promuovere il lavoro, soprattutto l'imprenditorialità giovanile. Noi abbiamo parlato di start-up, abbiamo parlato di giovani che non hanno avuto l'accesso tradizionale ai posti di lavoro e possono fare start-up incontrando chi in qualche modo investe e chi in qualche modo vuole fare innovazioni. Ci sono delle grandi possibilità e Siena può ripartire. Per Luigi, ci sei già stato in quella stanza 10 anni? Dopo tutte queste cose sono un po' imbarazzato. Noi credo che la prima cosa che dobbiamo fare è mettere mano alla macchina comunale. Ci sono tre settori che sono molto scoperti, l'ufficio tecnico, i contratti e quello dei vigili urbani. Per l'ufficio tecnico, per mettere in moto l'edilizia, noi dobbiamo per forza fare una sanatoria sulle dichiarazioni, sulla conformità edilizia urbanistica, che sta bloccando di fatto sia la compravendita che poi l'intervento edilizia. Quella cosa che c'è... Sì, come ha fatto Firenze, una sanatoria, anche Firenze ha una sovrintendenza, quindi bisogna parlare con la sovrintendenza e fare questa sanatoria perché anche la compravendita degli immobili è bloccata, i geometri non possono lavorare, c'è un problema enorme. Questo rimetterebbe il movimento edilizia. L'altra è quella che noi abbiamo già presentato, perché abbiamo già parlato con le persone, abbiamo presentato un progetto alla CGL Cisle Will per quanto riguarda la risistemazione della macchina comunale, che è formazione e rimotivazionale, perché il problema è di questa natura. Quindi abbiamo presentato un progetto, abbiamo avuto il gradimento del sindacato e questo ci fa particolarmente piacere. L'altra cosa da fare è subito il piano urbanistico, anzi prima del piano urbanistico ha fatto il piano della mobilità urbana, intesa in senso largo perché non si fa il piano regolatore senza avere il piano mobilità. Che dovrebbe arrivare in dote però da questa amministrazione. In dote poco perché hanno fatto un errore di fondo, loro sono partiti col piano urbanistico e hanno fatto dopo il piano della mobilità. Bisogna fare esattamente il contrario, bisogna vedere il piano della mobilità e su quello costruire il piano urbanistico perché altrimenti non si fa da nessuna parte. Poi bisogna fare il concorso di idee per avere dei progetti perché i progetti hanno bisogno di finanziamento sia a livello nazionale che europeo, sia con privati. Noi abbiamo proposto di fare una società pubblico privata, abbiamo già lo statuto che presenteremo, con uno sportello unico perché chi investe deve avere la certezza del lavoro e quindi l'ufficio tecnico è essenziale rispetto a questo. Poi ho altre cose da dire, voglio dire che questi secondo me sono gli aspetti essenziali da partire subito. Sulla mobilità bisogna partire dal presupposto che le rotaie non sono pubbliche, sono private. Le ferrovie dello Stato ormai sono private. Quindi basta, bisogna considerarle private. Noi il 6 giugno abbiamo un incontro con grandi investitori internazionali per quanto riguarda proprio l'uso privato delle ferrovie di collegamento fra Firezze e Siena con la tappa soltanto su Empoli per avere il collegamento diretto con l'aeroporto di Pisa. I parcheggi interrati possono servire sicuramente oggi, sono di supporto al centro storico e quindi vanno utilizzati per il centro storico. L'altro col piano locatore bisogna fare una seconda cinta di parcheggi scambiatori collegati con le navette. Per questo noi abbiamo fatto una proposta che si chiama Siena Pass che sfruttando, utilizzando le risorse che vengono dal turismo diamo i servizi, non soltanto i servizi da sporti gratuiti, ma daremo l'accesso ai musei e anche per quanto riguarda l'accesso agli impianti sportivi gratuiti. Ecco, finiamo questo blocco. Poi ti do anche i dati, perché abbiamo fatto fare un lavoro al metri di Lucca, quindi abbiamo tutti gli algoritmi, tutti i dati e quant'altro. No, no, tanto non abbiamo una grafica che lo illustrano. Io non vorrei come dice Vigni passare da populista. Ti hanno detto che sei populista? Vigni e Alessandro ha detto che sei populista. Alessandro? Sì, sì. Dicevo, chiudiamo questo blocco, che abbiamo pochi minuti, con un flash. Ho sentito tutti voi, si è parlato di lavoro, si è parlato un po' di ricerca. Il ruolo dell'università, come ve la immaginate in questa Siena che si va a costruire per il futuro? Qual è il ruolo dell'università? Quale sarà? Un minuto per uno. Un minuto, bene. Ma intanto l'università, ce ne sono due di università, l'università e l'università per stranieri. Io credo che bisogna lavorare su tutte e due, l'università per stranieri ha dimostrato di poter essere una grande risorsa per attrarre professionalità, per attrarre ricchezza anche intellettuale dall'esterno. Io credo che è necessario lavorare in sinergia con tutte e due, con l'università per stranieri e anche per attirare qualità giovani sul territorio che possano essere stanziali sul territorio. Quindi con buona pace anche dei comuni limiti è necessario trovare degli investimenti per poter fare, non dico un campus, ma comunque trovare delle soluzioni anche abitative e residenziali all'interno del circuito cittadino, non dico dentro le mura, ma insomma nella nostra città perché per me tutti i quartieri sono uguali, non parlerei mai di periferie, bisogna essere corretti anche nei confronti degli altri quartieri che vanno rivitalizzati anche in questo senso. Per cui l'università è una risorsa assolutamente importante da implementare e da accrescere. L'abbiamo scritto nel programma e ce l'abbiamo ben presente, dobbiamo ridare a questa città quel livello di internazionalizzazione che aveva, di internazionalità che aveva e che ha perso purtroppo già da diversi anni. Università degli Studi di Siena, università per stranieri, orizzontale per la rinascita della città. Lo dico da tutti i punti di vista, partendo innanzitutto da quello che è la cosa più evidente, il grande patrimonio artistico, culturale, architettonico, storico di questa città che è a quello che dobbiamo partire, lo dico dalla grande importanza che hanno certe istituzioni senesi, cito per tutti le tre istituzioni musicali, Chijana, Rinaldo Franci e Sinajez, per arrivare poi dopo a quello che invece è la grande scommessa, cioè quello di riposizionare Siena al centro diciamo del dibattito internazionale. Siena non può essere meno conosciuta di altre cittadine della nostra provincia, Siena ha un grande patrimonio e questo va sfruttato. L'università per questo è fondamentale. Davide. Noi dobbiamo partire da un punto, a Siena si nasce poco, quindi c'è un deficit nascita importante, per fortuna si rampa parecchio, quindi la qualità della vita è alta, quindi dobbiamo fare massa critica, dobbiamo intercettare tutti quei flussi migratori in qualche modo anche benestanti che possono venire qua, quindi le università hanno un ruolo centrale su questo, 10.000 studenti fuori sede dell'università di Siena, 3.000 studenti sono all'università per stranieri e 16.000 in tutto quelli dell'università di Siena. Quelli bisogna coccolarli, bisogna farli stare qua, bisogna far venire qua anche le loro famiglie, far partecipare alla nostra città. Quindi è fondamentale dare dei servizi a questi studenti e dare un'offerta, una politica abitativa consona a quello che richiedono. Non farli andare via. Molto spesso vengono qua, studiano e poi magari le loro professionalità vengono rivolte all'estero. Facciamo in modo che le università e il comune facciano rete, condividano un obiettivo intorno a questo obiettivo, tutti gli attori le devono beneficiare, a partire dagli studenti e a partire dal nostro tessuto sociale, perché su questo si parla. Dobbiamo fare massa critica, secondo me. Che a Luiz? Sicuramente è un tavolo di concertazione con l'università. Poi abbiamo delle eccellenze assolute nel settore... Un tavolo di concertazione con l'università? Sì, certo, non possiamo entrare in autonomia dell'università, ovviamente dobbiamo con loro lavorare e collaborare, ma ci sono... E non c'è oggi un livello di intermediario? No, c'è soltanto il rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione dell'università. Se non fosse più attivo o propositivo di responsabile? Non l'ho nominato io, forse... Ma non era la critica rivolta all'estero di te, era per interlobire. Scusa. No, dicevo, e poi ci sono delle eccellenze assolute, per esempio noi abbiamo tutto il settore dei beni culturali, come estrarre il reddito dei beni culturali, non è tanto fare esposizione, ma estrarre esposizioni, estrarre il reddito dei beni culturali. E l'altra abbiamo la robotica, siamo molto più avanti di Pisa, abbiamo il settore ingegneria che è fortissimo, abbiamo l'unica facoltà in Italia di psicologia ambientale, oltre che al settore della medicina sportiva, che sono tutti i settori di eccellenza su cui bisogna lavorare e incoraggiare il potenziale. L'altra è la questione degli immobili, noi abbiamo presentato, nero su bianco, un fondo immobiliare per il recupero degli immobili vuoti. Il fondo immobiliare funziona portando a patrimonio gli immobili, emettendo titoli e pagando, riconoscendo una percentuale sugli interessi, ovviamente a chi investe, e poi l'altra parte va a chi fa lo tipo di operazione. Abbiamo tantissimi immobili vuoti, alcuni di questi possono essere utilizzati a questo fine. Bene, ora noi andiamo in pubblicità, ma continuate a seguirci perché poi parliamo di sondaggi e della grande novità di 5 Stelle che non c'è e che cosa farà il suo elettorato. A fra poco!